13esima vittoria constitutiva, come giudica la prestazione di questa sera? Allora, sicuramente come ha detto il mio capitano Gioacchino, siamo sulla strada giusta, non ancora come all'inizio dell'anno, dobbiamo iniziare ad essere un po' più fluidi, ricominciare come una volta, però ci sono segni di miglioramento. Siamo al giro di Boa, è stato un ottimo giro d'andata, ma io dico sì come i risultati dove si potrebbe andare e speriamo che continui così al meglio.